Ragazzi qui Rocky e benvenuti su un nuovo video, questo è il nuovo vlog, non è Minecraft quindi, non so se si vede però, noi stiamo, papi dove che stiamo? Ah stiamo a minervi, no non mi ricordo mai il nome che è me, mia madre sta dietro proprio, ma comunque, oh, va da specie! Comunque stiamo con mia cugina a cazzeggiare, stiamo ad una specie di stagno, non so se si, però non so che è il faro rotto, è il faro della merda! Non so se si vede, vuoi vedere come faccio io? Aspetta, si vede, si vede, si vede? No, si, si E poi sono tutti gli agli, fammi farla mai con il braccio allungabile, il braccio allungabile Vabbè non, noi non so dove stiamo andando, mi sa la notte è bianca, e dovrò fare Dawnstarve come primo gioco E poi un altro giorno dovevo fare Pokemon Go, perché è fico, non so, non so mamma dove potrei essere Oddio, io ho fame, oddio Mia soglia sta svenendo per la fame, è stabile? È stabile? E sto coso è instabile È stabile? È stabile, non è instabile Pagherà la mano Allora, salgo io quindi Aaaaaah Arto Eeeeh Prendicelo Vabbè, comunque Prendi bene, bene, bene Ma se la... Prendi bene, bene, se la devi fare Mio sorello è una merda Questo è mio po' che sto qua Questa cosa è È molto bella da verde Che, che cosa succede? Questo è lo... bellissimo stagno e quello non so se si vede però tu lo sei schifo stavolta qua sei qua ti stupi ti stupi ti stupi comunque sto sto con i miei zii però non ve li faccio i miei zii i zii misteriosi chi saranno i miei zii lo saprete nel prossimo episodio però non chiudiamo ora perchè non ho detto ancora ci vediamo e ci vediamo al e ci vediamo al prossimo no schifo andiamo verso l'infinito e altre verso l'infinito e lo stagno verso l'infinito e lo stagno e lo stagno la mini fontana la mini fontana la mini fontana no 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 muoviti c'è c'è una tizia che sembra una morta e mo devo andare da mio padre scusa se non si vede con d'occhio però no no doveva mangiare il panzerotto no il panzerotto mangi sto per caccio il panzerotto non taglierò non taglierò mai una foto ma manco una foto manco una foto manco una foto a parte taglierò alto alto sto gazz senti non non stiamo andando no tanto 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 stai anche mio padre che mi guarda tipo che cosa sta dicendo questo figlio come potete vedere oppure non potete vedere no non potete vedere come la potete ok vi farò vedere tutto ma non taglierò manco una singola parola mi stavo stroppiando che bella vita di merda che bella vita di merda ma che bello qua no che bella merda che bella ma tu che bella sedia no cioè io ve la faccio vedere quanto è bella la più bella sedia del mondo vabbè io troppo chiuderò questo video e metterò un altro ad avviso perchè sono sono fighi sono fighi come la figa capito non 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 vabbè io sto per concludere qua il video e penso che la concluderò un modo dopo la terza sede che vedo ok non vi stavo e quindi io concludo il video ricordatevi tra un po cioè appena andrò al ristorante vi farò vedere che staremo al ristorante avete capito e io concludo qui il video e riprendo ricordatevi di vedere l'altro video ciao